Brolin ha scelto questo cross tagliato ma dovutamente forte per Melli in piena corsa questa scivolata non era certo agevole Aspriglia che prova ad infastidire l'azione, ce l'ha fatta l'azione dei giocatori israeliani Zoratto, Brolin, Melli ne prova l'1-2, Brolin in area e il tiro gol un rimpallo che ha favorito Brolin che ha messo la palla in rete una pesante punizione per la formazione del Maccabi quando siamo alla 45esimo e 20 secondi avete visto questa combinazione, questo 1-2 con Melli che ha restituito la palla c'è stata la respinta, se non vado errato, del numero 3 Harasi che ha trovato proprio la punta del piede destro di Brolin e di qui il gol al 45esimo e rotti c'era anche un Mani, vedete in partenza, ecco il rinvio il rinvio che va proprio a cozzare su comunque il piede proteso di Brolin che andava a cercare l'impatto con la palla per calciare e diciamo che il suo grosso merito è stato quello di credere, di voler conquistare questa palla e quindi essere pronto, essere preparato all'impatto eccolo qua, vedete il Mani, va in scivolata tocca ma Brolin con l'esterno destro praticamente la mette dentro